Sul fronte centrista, vicino al centrodestra, ha siglato l'accordo tra l'Udc di Cesa e noi con l'Italia di Fitto, Lupi e Romano. Nasce finalmente una forza politica, liberal popolare, nella coalizione di centrodestra che ha l'ambizione di rappresentare milioni di elettori che vogliono una politica non urlata, una politica che non sia scontro tra le tifoserie, una politica che si occupi delle cose concrete. In cantiere, dicono i centristi, incontri per rafforzare il progetto. Grazie